Perchè piangi Giada? La mia nuova casa è... piccola e vuota Ho ancora due settimane prima dell'inizio dell'università Insomma fidatevi di me che mi saprò gestire, ok? E tu sarai la testimonia della mia nuova vita Che cazzo parla o no? E' una cosa che mi piace fare, è come avere un diario soltanto... o tipo al posto con i tempi Quella roba lì Ti è rimasta ancora riprendendo con quella cosa Arrenditi Elisa, il diario di Arianna vince sempre Le cose che non si conoscono o ai luoghi in cui non si può entrare che spesso fanno paura Non andare a casa Ma lei non capirebbe... cosa vuoi che gli dica? Ho trovato qualcosa quella notte se non gli chiamare a pezzia C'è un gatto che arriva direttamente sull'isola e fa tappa a... Non vuoi farci ammazzare tutti? Io ci sono già stata Non ci tornerò Ari era giù Ari era giù Ari torniamo indietro Ari era giù Ari no Ari torniamo indietro da te quello che mi chiamava Tu ti aspettavi tutto questo? non No No!